Ciao ragazzi, bentornati sulla mia scrivania. Ho raccolto in questo video tutte le creazioni natalizie che ho realizzato con gli elastici Rainbow Loom. Trovate i link di tutti i tutorial nel box informazioni sotto a questo video o nelle schede informative in alto a destra. Fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita. Iniziamo con la mia preferita, ovvero la stellina. Se siete alle prime armi vi consiglio di fare bene attenzione a tutti i passaggi perché potrebbe sfuggirvi qualche elastico. Continuiamo con questo bellissimo alberello 3d. Realizzarlo è semplice ma richiede un po' di pazienza perché ci sono varie parti da assemblare. Non poteva mancare Babbo Natale. Potete realizzare sia la figura intera che solamente il suo cappello. Anche questa creazione mi piace moltissimo, semplice ma molto bella, il cristallo di neve. E cosa possiamo realizzare quando nevica? Ovviamente il pupazzo di neve. Guardate che carino questo. Un altro personaggio che non può mancare è la renna, altrimenti come fa la slitta volare? E a proposito di slitta ecco dei pacchetti regalo. Per decorare la casa delle bambole vi servirà una piccola ghirlanda come questa. E ora è il turno del pinguino, davvero troppo cute. Passiamo direttamente al 6 gennaio con questa calza della Befana e con questo lecca lecca bianco e rosso tipicamente natalizio. Concludiamo questa carrellata di creazioni con un tenerissimo angioletto. Guardate ha anche le ali. Allora qual è la vostra creazione preferita? Ne avete già realizzata qualcuna? Quale realizzerete di queste? Fatemelo sapere con un commento e non dimenticate di mettere like a questo video e iscrivervi al mio canale. Ciao ragazzi, al prossimo video!